La grande novità è che non è più un censimento universale, quindi su tutto l'universo, ma campionario, nel senso che c'è un campione, un campione di 280.000 imprese, quindi un grosso campione, quindi da garanzie di robustezza. Con questo campione e con i dati che in qualche modo sono già, per così dire, in casa, che sono i dati che derivano dai registri, quindi ottenuti in maniera informatica, avremo la possibilità di costruire, mettendo insieme le due fonti, un quadro che è ancora una fotografia censuaria, quindi ancora un mondo universo, quindi tutto il mondo in qualche modo andiamo a realizzare, ma attraverso una parte, una rilevazione diretta sul campo che è solo di tipo campionario. Questo credo che sia la vera grande novità e questo spiega sia gli aspetti economici, i vantaggi di natura economica, sia i vantaggi in termini di tempo e di possibilità di aggiornamento continuo del sistema.